Vivere in armonia con l'ambiente urbano è il messaggio della mostra Adattarsi in città allestita all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio fino al 12 maggio e organizzata con il Museo di Scienze Naturali. L'esposizione di 52 fotografie è articolata in due sezioni, l'uomo e la fauna e la flora, e ripercorre la transizione dalla vita rurale a quella urbana. Adattarsi in città è una mostra fotografica derivante da un concorso che ha voluto evidenziare l'adattamento sia dell'uomo, infatti c'è una sezione dedicata agli uomini, sia della fauna e della flora, alle condizioni di vita della città, quindi condizioni non naturali alle quali però gli esseri viventi si sono adattati e hanno cercato di rendere comunque la loro vita piacevole utilizzando quelle che sono le caratteristiche della città.